No, nel senso che io stavo andando in base a delle specie azioni, perché se ti è conto che io ho detto che è grande la calma e le azioni, la città, e la vita di te. La curva è all'inizio dentro. No, ma non vanno a prendere. 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 No, ma non vanno a prendere.